Ciao, sono Paolo Balci e vi presento questo Leica EcoVip H3110, un camper di 6,99 con letto per traverso, ma ha una particolarità, ora ve lo farò scoprire. Se volete vedere le caratteristiche, dimensioni, optional compresi e tante altre informazioni, cliccate sulla vostra destra in alto che si aprirà la scheda del nostro sito. Poi iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate la campanellina perché sarete sempre aggiornati dei nostri video. Andiamo a vedere intanto la parte esterna. Qui c'è lo sportello destro che ha questo piano che quindi potete sfruttare completamente l'altezza, oppure due piani, questo è il sotto cassa panca e questo è il piano che va fino in fondo, fino a raggiungere la parte destra dove nella parte sinistra, scusate, c'è l'altro sportello. Poi il garage, il garage è molto capiente. Eccomi qua e qui vi faccio vedere le dimensioni e qui sotto in centimetri, così potete ben comprendere quanto stivaggio potete metterci, ma sicuramente veramente tante cose potete inserire al suo interno. Lo sportello sinistro e anche qui piccoli contenitori che sono sempre comodi. Ora andiamo al suo interno. Una bella porta d'accesso, finestra, porta immondizie, fatte che belle maniglie sia sulla porta ma anche sulla sinistra per poter essere aiutati nel salire. Quando c'è letto per traverso su 6,99 si crea veramente su questo campo una bellissima zona giorno. Guardate com'è comoda, con il tavolino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cioè potete stare anche 8 persone a fare due chiacchiere, che è la cosa bella nel campo per coloro che amano invitare. Come vedete è molto luminoso sia sulla parte sinistra ma anche sulla parte destra con la finestra scorrevole, per cui la potete aprire sia quando c'è la porta aperta, durante il viaggio e anche nelle soste e nei parcheggi. Poi andiamo a vedere il letto matrimoniale. Questo campe ha due bei letti matrimoniali e come vedete faccio molto presto. qui c'è il gancio e poi ecco qua il letto che velocemente va giù. Poi ora è plastica per cui lo faccio vedere con le scarpe. Come vedete è bello comodo, è un letto comodo con il suo blu, con tutto il tessuto che serve a insonorizzare e a isolare, poi con la protezione qui davanti nel caso ci fossero dei bambini. Come vedete il letto non sovrasta la zona giorno, per cui col letto pronto si può fare colazione oppure stare in questa zona la sera. facilmente ha il progesto e ritorna ad essere una bella zona giorno. Particolarità dell'EcoVip, questo è il particolare che evidenzia questo bel prodotto. Guardate com'è elegante e funzionale, proprio perché è un punto di passaggio. Due vasche nella cucina, di cui si può usare o a vasca o a piano d'appoggio. Tre fuochi e qua dei bei contenitori. Sotto cassettiere e contenitore varie, oltre ad avere questo bello scorrevole. Poi il frigorifero con il suo congelatore. E poi, come sempre, un bel contenitore per le pentole è molto importante. Il bagno. Il bagno, la porta, separa la zona notte all'altra zona, la zona posteriore notte alla zona anteriore. Poi qua un bel lavandino, guardate com'è bello profondo. Poi il water, eccomi qua. Comodo con la sua finestra e il suo oblò. Quindi avete privacy, perché immaginatevi anche la porta chiusa, quindi avete privacy e un bello scambio d'aria. Qui un bel contenitore sotto il lavandino. Poi questo qua e questo di qua. Con un semplice movimento che gira. Guardate com'è grande questa doccia. ha la stecca per poter avere, agganciarci cose bagnate, quindi scaricano senza problemi, perché oltretutto è anche riscaldata. Qui è la doccia e mi muovo facilmente. La particolarità di questo campo è proprio nella parte posteriore. Qui sotto il letto, una parte del letto è occupata dall'armadio. Guardate com'è funzionale per poterci mettere le giacche. E poi quest'altro contenitore che scorre e quindi occupa tutto lo spazio sulla parte destra. Poi, a differenza di tanti altri campe, questo ha questo invito che permette anche quando c'è una persona qui di poter salire, guardate, salire senza disturbare l'altra persona. Il letto è molto grande, ha l'oblò e le due finestre destra e sinistra, quindi molto confortevoli. Qua contenitori vari tutti intorno. Come dicevo sulla parte anteriore, anche su tutto il cielo del campe, c'è questo panno che quindi isola termicamente, ma anche acusticamente. Poi per poter scendere, immaginatevi, una persona qua, guardate, basta che ritragga leggermente i piedi, che qualsiasi persona, anche molto alta, sulla parte posteriore può scendere senza disturbare. Quindi vi aspetto, vi aspettiamo per farvelo vedere e farvi capire le emozioni che vi può creare questo camper, come sempre agli ottimi prezzi e servizi caravambacci. Ciao!